Il Mediterraneo conteso la sua centralità nello scacchiere internazionale e l'esigenza per l'Europa di aumentare l'impegno nella regione. Al Med Dialogues di Farnesina e Ispi l'analisi di Gilles Keppel, politologo e scrittore francese. Marilu Lucrezia. Professore Gilles Keppel, lei è stato ospite ai dialoghi del Mediterraneo. Che cosa è emerso da questi forum? Ma vediamo due cose. Il potere crescente della Russia con il discorso di Lavrov e quello di Chavuzo Glu, il ministro dell'Este di Turco. Ambi due hanno una voglia di controllo sul Mediterraneo orientale che è straordinaria. Perché Erdogan e anche Putin hanno bisogno di utilizzare le crisi del Medio Oriente come un mezzo per rinforzare la loro supremazia a casa e nella regione. L'Europa continua a perdere influenza nel Mediterraneo? Sì, lo credo. Questa è un po' colpa dell'Europa quando vediamo per esempio la Francia, il mio paese, l'Italia, che si litigano sulla Libia. Io penso che la cosa migliore sarebbe di lavorare insieme perché i nostri interessi sono più importanti e le nostre differenze. Se non facciamo niente vediamo che il Mediterraneo sarà un lago turco, un lago russo. Uniti anche sull'emergenza migranti, dice il professor Keppel, tante le sfide da non sottovalutare il sogno di Erdogan di ricostruire l'impero ottomano. Ci sarebbe un accordo Turchia-Libia? Questo è un po' difficile, forse è un sogno, forse è un po' di voglia, di potere di Erdogan. A Venezia dopo l'eccezionale acqua alta di novembre, prenotazioni in calo del 40%, soprattutto da oltreoceano. L'allarme di albergatori. Dario Giordo. Ho scritto un'email e ho chiesto all'hotel se ci fossero le condizioni di sicurezza, poi abbiamo detto beh partiamo comunque. Un pochino di miedo? No, ho sentito dell'acqua alta ma sono rimasta tranquilla. Venezia, tre settimane dopo l'alta marea che ha sommerso la laguna, la vita è tornata alla normalità ma resta la paura. Soprattutto dei turisti che si godono l'acqua.